Il sistema simbolico. Come abbiamo visto, questo sistema costituisce uno dei tre strumenti per poter entrare in comunicazione con l'inconscio. Questo strumento in particolare è costituito appunto da tre simboli, simboli archetipici che ricordano appunto gli elementi fondamentali con cui noi abbiamo avuto riferimento ancora sin dalla nostra primissima infanzia. In questo caso parliamo appunto del simbolo asta che riguarda la figura paterna, il simbolo triangolo che riguarda la figura materna, possiamo anche esprimerlo in questo modo o addirittura anche in questo modo. E il simbolo cerchio. Il simbolo cerchio riguarda l'ego e siamo noi. Questi tre simboli costituiscono, abbiamo detto appunto, una modalità per poter sensibilizzare l'inconscio. E questo diventa assai significativo soprattutto anche per poter scoprire, conoscere la tipologia della persona, cioè del nostro interlocutore. Perché ricordiamoci che questa simbologia noi possiamo impiegarla sia nel campo diciamo a livello personale e quindi nella comunicazione con noi stessi, ma anche nella comunicazione con l'altro. Dicevamo che appunto questi tre simboli rappresentano il mezzo per entrare nella definizione della tipologia analogica che caratterizza una persona. E in questo caso cosa si fa? Si fanno vedere i tre simboli. Prima si crea una piccola, come dire, noi nelle nostre discipline analogiche parliamo di pastura, cioè li facciamo vedere tutti e tre insieme, poi li facciamo vedere singolarmente e a questo punto andiamo a vedere qual è la reazione della persona. La persona reagirà di fronte a questi simboli con appunto una ondulazione del corpo. È chiaro che qui parliamo di una reazione che avviene a livello inconscio, quindi a livello emotivo, proprio perché questi simboli non fanno altro che richiamare le esperienze passate che l'individuo ha vissuto nella sua vita fino al momento in cui appunto li vede. Chiaramente, dicevo, questi simboli quindi possono essere fatti vedere alla persona proprio per individuare la sua tipologia e in questo caso abbiamo detto che la persona dà una sua reazione, una reazione istintiva che sarà di gradimento verso appunto un simbolo e invece di, in un certo senso, rifiuto sull'altro. Dei tre simboli uno sicuramente sarà quello di gradimento ed è quello che noi definiamo anche come stimolatore penalizzante. Perché lo chiamiamo così? Penalizzante perché in un certo senso va a, come dire, penalizzare la parte razionale, ma certo viene vissuto quanto mai invece piacevole e gratificante per la parte invece emotiva. Ma direi che a questo punto vale la pena di incominciare ad attuare la nostra pratica esperienziale proprio per cercare di capire come funziona questo meccanismo di comunicazione con l'inconscio attraverso questa simbologia. Ovviamente in questo caso, in quanto io operatrice, visto che la persona ancora non conosce bene il sistema simbolico, può essere guidata dalla sottoscritta a realizzarlo. Poi è un dato di fatto che la persona nel momento in cui avrà acquisito una maggiore dimestichezza proprio con questa metodica potrà essa stessa applicarla cercando quindi di operare una sensibilizzazione del proprio inconscio proprio per entrare in comunicazione con esso. Andiamo a vedere innanzitutto allora questa sensibilizzazione attraverso appunto la sottoscritta operatrice e qui gentilmente Angelo che ringrazio per la collaborazione. Allora adesso Angelo farò vedere questi tre simboli questo è il simbolo cerchio, questo è il simbolo asta, lo faccio anche con due dita proprio per dare più incisività al simbolo stesso e il simbolo triangolo. Adesso li faccio vedere singolarmente, la tua mente ne partecipa, ne ostacola, lascia che quindi sia solo il tuo inconscio a dare la reazione sulla base di quello che appunto vedrai attraverso appunto questi simboli. Incominciamo e incomincio col simbolo del cerchio, entro nello spazio di un metro e incomincio appunto a portarlo avanti. Ecco vedete che già istintivamente l'inconscio di Angelo sta dando una reazione, la reazione è quella di andare all'indietro quindi vuol dire che questo sicuramente è un simbolo che diciamo non è comunque penalizzante per lui ma è piuttosto invece gratificante. Questo vuol dire che se io vorrò comunicare con lui eviterò di fare il simbolo appunto cerchio proprio perché questo gli dà in fondo una reazione di rifiuto. Vado allora a cercare quale tra gli altri due segni costituisce appunto invece il suo stimolatore penalizzante cioè abbiamo detto il simbolo che piace al suo inconscio. Andiamo a vedere, andiamo allora a realizzare il triangolo e in questo caso mi piace anche farlo così perché appunto è un po' più grande, è maggiormente visibile prima lo allontano e poi progressivamente lo avvicino, lo avvicino fino a quando cerco di vedere ecco anche qui la reazione del suo inconscio è di andare indietro. Quindi questo ci fa capire che oltre a essere appunto una tipologia in questo caso egocentrica perché abbiamo visto che appunto rispondeva andando indietro sul simbolo cerchio, ego abbiamo detto, ha anche una conflittualità originaria, vi ricordate, triangolo quindi materna. Quindi vuol dire che in questo caso si tratta di una tipologia, poi possiamo chiamarla egomaschio proprio perché è conflittuale madre e nello stesso tempo andiamo a vedere allora il terzo simbolo il simbolo asta. Ecco, lo avvicino e a un certo punto vedo che ecco addirittura posso anche sfilarlo e noterete che addirittura il suo inconscio lo trascina quasi come se qui ci fosse un filo che lo sta appunto portando verso questo simbolo. Ecco vuol dire che allora il suo simbolo in questo caso penalizzante e quindi quello che il suo inconscio gradisce è il simbolo asta. Ecco, cosa serve poter individuare questa simbologia? Consente di capire appunto che se io vado a interloquire con questo appunto mio interlocutore se farò il simbolo asta sicuramente lui sarà come dire più interessato anche alla mia conversazione proprio perché il suo inconscio gradirà questo simbolo. Nello stesso tempo è possibile appunto impiegare abbiamo detto questa simbologia proprio per poter meglio sensibilizzare il suo inconscio soprattutto quando lui stesso vorrà parlare con se stesso o appunto quindi riuscire a diciamo comunicare e capire appunto le sue emozioni. Proprio perché se c'è un operatore la persona chiaramente può vedere i simboli fatti esternamente quindi sensibilizzarsi per così dire in maniera indiretta. Ma c'è anche la possibilità per la persona stessa di realizzare una possiamo dire autosensibilizzazione. Allora l'autosensibilizzazione può avvenire in due modi. Può avvenire o impiegando direttamente i due simboli che noi abbiamo visti prima appunto che io ho fatto in questo caso il cerchio e l'asta e lui li realizzerà in questo caso il nostro Angelo attraverso quella che noi definiamo nelle discipline analogiche chiave d'accesso. Proprio definita così diciamo anche come dice lo stesso termine una chiave che permette di accedere appunto al suo inconscio di comunicare con lui. Quindi ecco io invito in questo caso Angelo ad apprendere questa sua chiave d'accesso e quindi da fare poi il simbolo asta appunto col dito e a questo punto provare appunto a girare sul cerchio esatto vediamo o addirittura se questo ecco già il suo io potrebbe sensibilizzarsi già lo fa ma potrebbe addirittura aumentare questa come dire carica e tensione emotiva perché ricordiamoci che comunque l'inconscio si sensibilizza attraverso appunto l'aumento tensionale se addirittura infila l'asta nel cerchio. Vediamo infatti la reazione vediamo se infilando l'asta nel cerchio ecco il suo inconscio vedete da una spinta in avanti vuol dire che gratifica in questo caso appunto lo stesso operatore dando ecco questa reazione positiva in avanti ecco in questo modo per esempio Angelo può già sensibilizzarsi e a quel punto poi farsi delle domande e avere delle risposte dal suo inconscio ma può anche esserci un'altra modalità se per esempio la persona ancora non conosce bene la sua chiave d'accesso e vuole magari cercare di conoscerla e a fianco non ha un operatore può benissimo anche operare una visualizzazione in che senso può benissimo immaginare di avere davanti a sé per esempio un grande cerchio pensarlo a una decina di metri da sé e incominciare poi chiudendo gli occhi proprio per facilitare sempre l'attenzione su di sé anche di immaginare dicevo di portarlo di vederlo sempre più avvicinarsi a sé va bene quindi mentre diciamo aumenta quindi la vicinanza ecco dovrebbero esserci poi delle reazioni istintive da parte del suo inconscio vediamo un attimo allora prova Angelo a visualizzare chiudendo magari gli occhi sempre mantenendo la posizione ortostatica cioè una posizione che impedisce appunto di avere degli scarichi tensionali immagina a questo punto di avere a una decina di metri da te un di vedere un grande disco un grande cerchio e progressivamente questo cerchio incomincia ad avanzare avanza e mentre avanza verso di te si ingrandisce sempre di più vedilo sempre più avanzare e più avanza verso di te più si ingrandisce ecco come vedete già il suo inconscio sta rispondendo sta rispondendo appunto a questa visualizzazione del cerchio e ci fa capire che appunto andando anche in questo modo ecco indietro col cerchio è appunto una tipologia ego vediamo adesso visualizza in questo caso un altro simbolo in visualizza il simbolo archetipico appunto dell'asta abbiamo detto che in questo caso l'asta il simbolo paterno allora andiamo a vedere ecco come puoi realizzare questo visualizza anche qui da una decina di metri un grande un grande palo una grande asta anche questa qui incomincia ad avanzare verso di te e man mano avanza verso di te diventa sempre più grande incominciano a vedere sempre più grande e come vedete ecco che angelo o meglio distinto di angelo ha una reazione quella di spostarsi e quindi di mostrare che gradisce questo simbolo e a questo punto andiamo a vedere l'altro simbolo archetipico quello materno il triangolo anche in questo caso immagino grande triangolo che a una decina di metri da te via via inizia ad avanzare verso il tuo corpo e man mano che avanza si ingrandisce ecco incomincialo a vedere a visualizzarlo e come vedete la visualizzazione consente ad angelo di poter quindi farci capire che il simbolo triangolo sicuramente non gli piace o meglio non piace al suo inconscio e quindi non sarà certo questo il simbolo col quale sarà facilmente possibile comunicare con l'inconscio quindi anche voi potete benissimo realizzare questo provare questa visualizzazione e riuscire a capire qual è il simbolo che meglio diciamo piace al vostro inconscio